Una buona giornata cari amici, ben ritrovati, che serata che ci aspetta, c'è questo derby di Milano in Coppa Italia che qualcuno prova a definire in tono minore perché si gioca nella Coppa Nazionale, per me è l'esatto contrario, è un derby che può essere molto pesante visto anche il momento psicologico di entrambe le squadre, una partita che sicuramente vedrò e vivremo insieme perché ho intenzione di parlarvene domani mattina. Ieri ho parlato di calcio italiano, ho fatto il punto su tutte le tematiche dell'ultimo turno, quindi il crollo del Milan, l'Inter che non è riuscito ad approfittarne, la Juve che si mette in moto, i problemi di Roma e Napoli, questa Atalanta che invece va fortissimo, così come la Lazio riduce da 4 vittorie consecutive e tutto il discorso della lotta a salvezza. Il video di ieri è stato un video molto corposo, ci tenevo, visto che per qualche giorno non ci siamo sentiti, oggi però vi voglio parlare di calcio estero, voglio portarvi a fare un giro per l'Europa perché ieri è stato il giorno della notizia forte dell'esonero di Frank Lampard dalla guida del Chelsea, già noto il suo successore, è Tuchel che si rimette immediatamente in gioco ed è una notizia che scombussola lo scenario inglese ma anche la Champions League perché il Chelsea sarà impegnato contro l'Atletico, una notizia non così sorprendente visti i risultati, però l'ho voluta unire a quella che sarà invece la notizia del giorno oggi in Spagna, ovvero l'ufficialità del passaggio del Papu Gomez al Siviglia. Perché l'ho voluto unire a questa? Perché il fatto che il Lampard venga mandato via dal Chelsea e il Papu Gomez se ne vada dall'Atalanta ci dà un po' la sensazione malinconica di due bandiere che si strappano un filo, che si ammainano in un certo senso ma che hanno trovato delle difficoltà. Qualcuno se le è create, qualcun altro invece non è stato in grado fino in fondo di assorbire questo nuovo ruolo. In ogni caso sono due simboli differenti ma ugualmente radicate in questi due club che vengono messi da parte, per cui voglio parlare di cosa è successo per arrivare alla decisione di esonerare Lampard, di quelle che possono essere le prospettive del Chelsea e di quelle che probabilmente sono state le mancanze del manager inglese e dall'altra parte invece analizzare cos'è l'Atalanta senza il Papu Gomez e soprattutto cosa sarà il Papu Gomez a Siviglia e il Siviglia del Papu Gomez. Per cui un discorso a tutto tondo fra calcio inglese, calcio spagnolo, Champions League, sempre nell'ottica di parlare di campo e di parlare delle prospettive di due grandi squadre e di un giocatore importante che comunque saranno protagoniste nella seconda parte di stagione. Iniziamo dal discorso del Chelsea. Ripeto, una notizia impattante ma non una notizia totalmente sorprendente perché l'andamento del Chelsea ormai da diverse settimane era un andamento impossibile da allineare alle ambizioni e agli investimenti della società. Cosa è successo al Chelsea? Il Chelsea l'anno scorso, nel primo anno della vera rifondazione targata Lampard, è andato bene, è andato a corrente un pochino alternata però il risultato finale è stato assolutamente soddisfacente con l'ottenimento del posto in Champions League, una stagione con l'obiettivo minimo, direi l'obiettivo vero, centrato, anche l'idea di un nuovo corso che si sarebbe basato sui giovani, su un manager che ci metteva la faccia, ci metteva anche tutto il proprio status ma che proprio con i giovani aveva già dimostrato in Championship con il Darby County di essere uno che poteva scrivere una nuova storia dalle parti di Stamford Bridge. Una storia che quest'estate ha subito un'accelerazione sicuramente ma anche un mutamento molto profondo perché il Chelsea è stata la big che ha investito di più sullo strano mercato estivo, è andato a prendere tanti giocatori di nome importanti, Werner, Havertz, Ziyech, Thiago Silva firmato a parametro zero ma con un contratto molto corposo e qui c'è stato un pochino di stacco rispetto a quelle che erano state le linee dettate da Lampard e dettate anche dal club nella stagione precedente. L'impressione iniziale è che le cose funzionassero perché il Chelsea ha perso solo una partita nelle prime undici di Premier League ed è stata contro i campioni in carica del Liverpool, è arrivato a produrre addirittura una serie di 17 risultati utili consecutivi fra tutte le competizioni, si parlava all'inizio di dicembre, fine novembre anche di possibilità titolo per i Blues che hanno passato oltretutto molto brillantemente il girone di Champions vincendo 4-0 in trasferta lo scontro diretto con l'altra potenza del raggruppamento ovvero il Sibiglia. Poi la luce si è improvvisamente spenta, anche se improvvisamente forse non è l'avverbio più adatto perché comunque una sensazione di pienezza al Chelsea non l'aveva mai espressa c'era sempre stato un po' il sentore che i nuovi acquisti non si integrassero fino in fondo e che ci fosse una differenza fra le idee dell'allenatore e le idee del club In che senso? Il club andava avanti su binari piuttosto definiti, anche di protezione degli investimenti un caso significativo è anche quello del portiere, Kepa, che Lampard così come Sarri prima di lui aveva accantonato nonostante sia il portiere più costoso della storia del calcio il club lo ha accontentato andando a prendere Mandy come nuovo numero uno però lo ha accontentato non con convinzione totale perché comunque qualche tentativo da parte della proprietà di convincere Lampard ad insistere nel dare fiducia a Kepa c'è stato, ma lui è stato irremovibile e lì comunque si è messo in una posizione per la quale doveva per forza rendere Poi è arrivato il crollo, è arrivato lo stop perché il Chelsea adesso è nono in classifica a meno 5 dal quarto posto, ha perso 5 delle ultime 8 partite giocate in Premier League prendendo anche delle elezioni significative dall'Arsenal, dal Manchester City, dal Leicester nell'ultima giornata disputata in campionato e per un club che ha investito appunto 250 milioni sul mercato estivo non è una situazione accettabile e soprattutto Lampard ha fatto all-in e la mano l'ha persa, anche perché Lampard se ne va, ma questo è un discorso che secondo me vale fino a un certo punto perché va appunto rapportato al momento storico del club e al momento storico del calcio, però formalmente Lampard se ne va con la peggior media punti per partita in Premier League dell'era Abramovic, 1,67 molto poco, meno anche di Villas-Boas che ne aveva fatti 1,7 per partita, però ecco vederla in questi termini è un po' ingeneroso perché Lampard ha fatto sicuramente delle cose apprezzabili come detto ha preso una base di giovani e li ha resi giocatori da Premier League giocatori importanti anche attraverso il lavoro che aveva fatto ad esempio con Mason Mount o con Tomori che ora è stato prestato al Milan precedentemente in prestito al Darby County Mount, Abram, Tomori, Azzon Doi che adesso è rientrato e ha segnato anche dei gol si è fatto notare nelle ultime partite, sono comunque un capitale che viene lasciato al club e questo capitale è indubbiamente merito del lavoro fatto da Lampard, però se vi ricordate quello che ci dicevamo quest'estate, insomma estate avanzata all'inizio della stagione con un mercato del genere la palla passava veramente all'allenatore perché quando ti vengono presi comunque credo anche con identità di visione sicuramente di concerto con il manager ma quando vengono presi giocatori del genere allora l'allenatore deve fare un salto avanti deve passare dall'essere allenatore all'essere gestore ad essere in grado di mettere a sistema questo materiale molto prezioso questo potenziale indubbiamente aumentato ma anche da far rendere e lì Lampard probabilmente è mancato, ve lo mettevo come il grande punto di domanda sulla stagione del Chelsea perché io guardo la rosa del Chelsea e rimango convinto del fatto che questa sia una squadra molto forte però ero anche un po' convinto che Lampard potesse non avere l'esperienza forse per saper fin da subito cosa fare, per saper tranquillizzare, per saper dare regolarità a un gruppo che logicamente ha bisogno di tempo per essere costruito come tale che poi anche quello che ha segnalato direttamente Frankie Lampard ogni ricostruzione ha detto presuppone della sofferenza che può essere dietro le quinte ma può essere anche sul campo è quello che sta succedendo al Chelsea un allenatore magari più maturo, più navigato, più esperto avrebbe fatto delle cose differenti e in questo senso ci sta l'avvicendamento in panchina che sicuramente è una brutta botta per Lampard ma che gli lascerà un insegnamento sono molto curioso di vedere come proseguirà la carriera di Frank Lampard perché sicuramente ha dimostrato di essere un manager meritevole di considerazione dall'altra parte il sogno di vedere in Premier League di nuovo dopo tanti tanti anni un allenatore inglese in grado di imporsi è sfumato per il momento perché rimangono internazionali le grandi figure menageriali di questo campionato e internazionale è anche l'uomo che eredita la panchina di Lampard perché il Chelsea ci ha messo pochissimo ad annunciare il suo sostituto evidentemente era una situazione già apparecchiata e il nome è quello di Tuchel Tuchel trova una chance enorme per rilanciarsi immediatamente dopo la fine della burrascosa avventura al Paris Saint Germain e Tuchel è un nome che ci parla sempre di più della tra virgolette germanizzazione del gruppo squadra Chelsea evidentemente Roman Abramovic e le sue mani attive nella gestione del club hanno intenzione di ispirarsi al modello tedesco di calcio non a caso sono arrivati Havertz e Werner in estate adesso arriva un allenatore sempre da questo paese che parla la stessa lingua di questi elementi non solo in senso letterale ma anche in senso calcistico perché sicuramente Havertz e Werner sono giocatori che nel calcio di Tuchel è un calcio propositivo un calcio moderno, un calcio veloce un calcio di interscambio, un calcio che cerca la profondità che cerca un certo tipo di dinamiche che possono trovare delle condizioni favorevoli delle condizioni conosciute e ripeto, per Tuchel è una grandissima opportunità credo che anche in questo senso sia stato preferito il suo nome a quello ad esempio di Massimiliano Allegri che giustamente è accostato ad ogni panchina super vacante ma che non ha trovato quella del Paris Saint Germain è arrivato Pochettino, non ha trovato quella del Chelsea è arrivato Tuchel credo che dovesse cambiare qualcosa a Roma Allegri potrebbe essere sicuramente la figura più ambita poi bisogna capire se si riescono a incastrare tutte le cose ma tornando al Chelsea per Tuchel è una grande chance ma lo è anche per il club perché gli elementi che sono stati presi i giocatori, la rosa del Chelsea è adatta al calcio di Tuchel e comunque va ricordato che Tuchel si quest'anno si è messo un po' nei guai da solo al Paris Saint Germain ha favorito insomma il proprio avvicendamento ma l'anno scorso Tuchel è arrivato in finale di Champions League e dire l'anno scorso è quasi forzato perché stiamo parlando di metà agosto al di là del risultato o quasi risultato ottenuto più volte vi ho detto come la mia impressione sia stata nella stagione passata di vedere per la prima volta il Paris Saint Germain essere una squadra ovvero un sistema vero di calciatori che saranno figurine, saranno campioni tutto quello che volete però se non agiscono collettivamente non possono sperare di arrivare a dei risultati significativi Tuchel era riuscito a dare questo tipo di sistema al Paris Saint Germain attraverso dei passaggi anche un po' elaborati un po' macchinosi però c'è riuscito bisognerà vedere che tipo di tempo avrà a disposizione ora Tuchel perché prendere una squadra del genere in corsa presuppone di arrivare subito a far vedere qualcosa e il Chelsea non può permettersi di rimanere fuori dalla Champions League ripeto la distanza di 5 punti non è altissima ma ci sono tante squadre in mezzo e non sarà facile per i Blues rimontare c'è però l'opportunità della Champions League un'opportunità difficile perché l'avversario è l'Atletico Madrid ma vi ricordate cosa è successo quando il Chelsea l'ha vinta la Champions League ci fu proprio un avvicendamento in corsa arrivò un allenatore con un profilo molto diverso però insomma a volte la storia del calcio ritorna per cui credo che sarà molto interessante vedere come si svilupperà questo binomio sicuramente c'è la volontà di costruire non sul lungo perché in questi club non si può ragionare sul lungo periodo ma sul medio Tuchel non verrà valutato per questi mesi ma la possibilità di cominciare a fare qualcosa a mio modo di vedere c'è il Chelsea cambia anima cambia completamente direzione tecnica e adesso però c'è anche molta responsabilità sui giocatori perché cascano gli alibi e uno come Werner non può essere uno che ha segnato un solo gol nelle ultime 16 partite giocate uno come Avers non può essere uno che ha segnato un solo gol nelle ultime 18 partite giocate tra l'altro entrambi l'hanno segnato in Coppa d'Inghilterra nel 4-0 al piccolo Mourkamp che è una squadra di quarta serie devono dare anche loro un cambio serio di passo hanno un allenatore che li conosce bene hanno un allenatore che li può valorizzare paga Lampard il Chelsea si apre una nuova via ma si mette addosso anche delle responsabilità in più ripeto le mie sensazioni è che possa essere un binomio interessante però lo vedremo sul campo ho sensazioni molto intriganti anche sulla destinazione che attende il Papu Gomez ovvero uno dei casi più spinosi anche un po' più tristi della stagione attuale di calcio italiano perché l'Atalanta è sempre stata vista come un'isola felice e il Papu Gomez come il capitano di questo gruppo il simbolo di come attraverso un grande club attraverso un grandissimo allenatore l'Atalanta sia riuscita a diventare una squadra di livello internazionale una squadra che entra fra le prime otto d'Europa e attraverso questo giocatore che non solo guidava il gruppo in campo ma dava anche la dimensione della polivalenza della varietà della qualità del gioco dei nerazzurri poi qualcosa si è incredibilmente rotto quest'anno i motivi sono stati più o meno spiegati indubbiamente Gasperini cercava di tenere sempre più in tensione il suo leader massimo allo stesso tempo il Papu Gomez non dico che si sia distratto assolutamente però dopo anni di trincea ha provato a guardare anche un po' fuori c'è stato il ritorno in nazionale ci sono state delle situazioni che hanno creato qualche incomprensione anche a livello tattico finché il tutto non è deflagrato il problema qual è stato? è che il messaggio che ne è uscito a livello proprio di immagine è che nel momento in cui c'è stato lo scontro fra il capitano e l'allenatore il club ha scelto l'allenatore e la squadra è ripartita perché se nella prima parte di stagione avevamo visto solo a tratti la vera Atalanta da quando è scoppiato il bubone del Papu Gomez e il numero 10 è stato escluso l'Atalanta ha cominciato a fare dei risultati ora viene da 13 risultati utili consecutivi 8 vittorie e 5 pareggi ha passato splendidamente il giro nel Champions League l'Atalanta vincendo ad Anfield vincendo ad Amsterdam qualificandosi ancora per gli ottavi di finale e sta ritornando protagonista anche in campionato ora la rincorsa è ancora da completare però l'Atalanta vista sabato a San Siro è una squadra che può ambire a qualsiasi cosa e la svolta è arrivata proprio in quella partita pareggiata e non bene contro il Midtilland in cui il confronto è esploso in cui il Papu Gomez venne sostituito all'intervallo quello fu il primo degli attuali 13 risultati utili consecutivi poi abbiamo rivisto il Papu Gomez nella partita con l'Ajax l'abbiamo rivisto per un altro spezzone non l'abbiamo più rivisto e abbiamo ritrovato una grande Atalanta perché è tornato ad essere il vero numero uno della squadra il giocatore che tecnicamente fa la differenza più di tutti in questo gruppo ed è Ilicic lo abbiamo visto anche nell'ultima partita stiamo rivedendo l'Ilicic di Valencia ve lo dicevo nel video di commento al turno di Serie A ieri e anche perché attraverso il collettivo attraverso la dimostrazione data anche dal club e dall'allenatore Gasperini è riuscito a trovare anche delle soluzioni tecniche per sopperire all'assenza del Papu Gomez è riuscito a trovare un giocatore che gli dà quello che gli serve oggi in quella posizione ovvero Pessina ovvero un giocatore che ha sicuramente meno fantasia meno inventiva, meno esperienza, meno geometria meno totalità di espressione rispetto al Papu Gomez ma garantisce comunque lo stesso numero o può arrivare a garantire un buonissimo numero di riscontri concreti in termini di gol e assist Pessina è uno che entra nel tabellino dei marcatori e dà Gasperini quello che appunto è stato il motivo del contendere fra lui e il suo capitano ovvero attitudine, intensità Pessina è un giocatore che sa marcare l'uomo che sa inseguire l'uomo che sa incollarsi all'avversario cosa che il Papu Gomez non riusciva o non riteneva di dover più fare fino in fondo questi sono discorsi che lascerei abbastanza da parte perché poi bisogna conoscere dall'interno e in maniera veritiera le dinamiche continuo a faticare a vedere Alejandro Gomez come uno che non vuole dare tutto se stesso è successo evidentemente qualcosa però stiamo vedendo l'Atalanta sul campo e stiamo vedendo queste cose per cui l'Atalanta è riuscita già a dimenticare in qualche modo il Papu Gomez e ripeto questa è una cosa triste perché la storia meravigliosa fra questo club e questo giocatore doveva finire in un altro modo però continua la storia dell'Atalanta e continua anche la storia del Papu Gomez che ripeto in una situazione del genere poteva ritrovarsi in difficoltà e invece è caduto piuttosto bene questo perché chi si è fiondato sul Papu Gomez chi da grande predatore del mercato ha fiutato immediatamente l'occasione gigantesca di poter fare in colpaccio vero e proprio Monci il direttore sportivo del Sibiglia maestro assoluto di queste e di tante altre situazioni del mercato Monci ha preso il Papu Gomez ovvero un giocatore da quarti di finale di Champions League perché è quello che è stato nella scorsa stagione con vista a qualche minuto qualche secondo addirittura sulla semifinale lo ha preso a prezzi di saldo perché la stampa spagnola riporta un accordo fra Sibiglia e Atalanta sulla base di 5 milioni fissi più 2 eventuali di bonus prendere a gennaio un giocatore come il Papu Gomez a queste cifre è veramente notevole il contratto è molto soddisfacente anche per il Papu perché prenderà più o meno quello che prendeva l'Atalanta e soprattutto avrà un accordo con il Sibiglia fino al 2024 e il Papu Gomez va a giocare in una squadra che è nelle prime 4 posizioni in Liga quindi lotta e lotta con molta credibilità per rimanere una squadra da Champions e in Champions c'è perché il Sibiglia si è qualificato appunto secondo nel girone con il Chelsea anche qua ci può essere un link un fil rouge in questo video affronterà il Borussia Dortmund negli ottavi di finale insomma è una sfida che alla squadra di Lopeteghi campione in carica dell'Europa League porta anche la possibilità di potersi assolutamente giocare il passaggio ai quarti in più il Papu Gomez va in un sistema di gioco in una squadra che può esaltare moltissimo le sue caratteristiche che da lui può avere un bonus molto significativo ma che gli porta anche in questo caso ovviamente dei doveri dove si inserisce il Papu Gomez in questo Sibiglia? si inserisce in una squadra che ha già dimostrato ampiamente con Lopeteghi di sapere ottenere i propri risultati e sono risultati molto brillanti attraverso la qualità del gioco la ricerca del protagonismo sul campo ma anche attraverso una praticità molto preziosa perché il Sibiglia è squadra che sa essere bella ma il Sibiglia è squadra che soprattutto risulta sempre efficace gioca sulla traccia di un 4-3-3 con due difensori centrali di grandissimo valore in questo momento Diego Carlos stopper duro e puro Koundé che per me è uno dei difensori centrali più interessanti che ci siano in Europa 22 anni giocatore non solo solido difensivamente ma molto forte di testa anche se non arriva al 1,80m e che sta diventando sempre più anche un costruttore di gioco perché Koundé lo si vede impostare a metà campo o addirittura sulla tre quarti due terzini che aggrediscono tantissimo e che tengono ampia la squadra il Sibiglia è una delle squadre che sfrutta di più in Europa l'ampiezza del campo Jesus Navas da una parte e Marcos Acuña dall'altra che ha ereditato il posto di Reguilon finito al Tottenham dopo il prestito dal Real Madrid e anche qui grandissima intuizione di Monci perché Acuña è uno che fonde grande quantità con spirito e anche buone dosi di qualità il centrocampo che è il reparto in cui entrerà il Papo Gomez perché poi davanti gioca una punta vera che può essere De Jong ma ultimamente molto di più Nesiri il PCC della Liga giocatore che sta esplodendo anche per continuità realizzativa poi ci sono due esterni come Ocampos che non è l'Ocampos dell'anno scorso dal punto di vista realizzativo ma è sempre un grande agitatore della partita e dall'altra parte c'è Suso Suso che a Sibiglia ha trovato uno scenario molto adatto al proprio calcio sta facendo bene sta risultando molto efficace con il suo solito football il solito rientro sul sinistro ma è un giocatore che crea è un giocatore molto apprezzato in questo momento in Spagna il centrocampo A3 è formato da Fernando vertice basso praticamente il terzo centrale si abbassa per costruire si abbassa anche per dare una mano alla difesa e poi le due mezze ali e qua entriamo nel raggio d'azione del Papu Gomez la mezzala alla quale Lopeteghi rinuncia meno è Joan Jordan che è una mezzala a 360 gradi giocatore di gamba giocatore molto istruito tatticamente uno che la palla la porta uno che la palla la fa viaggiare uno che anche si inserisce gli stanno mancando un po' i gol del recente passato però è un giocatore dal peso specifico molto importante sull'altro ruolo di intermedio quello che era di Banega fino all'anno scorso quindi una mezzala di costruzione ma anche in grado di galleggiare sulla tre quarti Banega se n'è andato è stato portato a casa Rakitic quest'estate riportato a casa dal Barcellona dopo sei anni di grandi conquiste e Rakitic fin qui ha convinto solo parzialmente perché rimane un geometra di enorme qualità rimane un giocatore potenzialmente con dei colpi decisivi cosa è mancata fin qui a Rakitic è mancata la continuità su alti livelli di intensità infatti anche Oliver Torres che però lo Petteghi interpreta anche nel tridente ha avuto dello spazio adesso arriva al Papu Gomez perché il Siviglia lì vuole un giocatore che faccia giostrare la squadra che abbia soluzioni personali ma che tenga anche piuttosto alto appunto il livello atletico perché il Siviglia è una squadra che gioca sempre in ritmo e se non gioca in ritmo rischia un pochino di arenarsi nella propria circolazione di palla lo Petteghi vuole una formazione che si esprima su ritmiche sostenute questa è la missione è la dimostrazione che deve dare il Papu Gomez perché nel calcio spagnolo e in questo tipo di squadra uno come lui può fare veramente la differenza ha la personalità per prendere in mano la situazione ha l'adattabilità e la creatività per parlare la lingua di questa squadra deve dimostrare di starci a livello di intensità che in condizioni normali non sarebbe assolutamente un qualcosa da porre in discussione però per un giocatore che negli ultimi due mesi quasi non ha praticamente mai giocato che viene da una situazione del genere che sarà subito chiamato a dimostrare in un campionato come la Liga e in Champions League non è semplicissimo io anche in questo caso penso che il Sevilla abbia fatto un colpaccio e il Papu Gomez anche però poi è da vedere sul campo certo se entra nel migliore dei modi nel modo giusto questo colpo a Monchi allora una Liga che è sempre più orientata verso i Colcioneros però potrebbe avere degli scossoni in quella che è la lotta per andare in Champions e il Sevilla è assolutamente una protagonista disegnata perché in questo momento il pensiero comune è che le prime quattro saranno l'ordine poi lo farà il campo però Atletico Real Barcellona e Siviglia però qualcosa può succedere dietro ci sono squadre che ambiscono ad entrare in questa lotta e allora i problemi potrebbero arrivare per chi magari una costanza totale non l'ha avuta vedi il Barcellona che di punti non ne ha poi così tanti ha risorpassato Siviglia proprio nell'ultima giornata di campionato e soprattutto lo scenario della Champions League che potrebbe essere il nuovo orizzonte l'orizzonte grande per la squadra re dell'Europa League ma che questo passo vuole farlo arrivare ad essere una protagonista vera anche in Champions il Papu Gomez in questo senso si allinea molto bene a questo tipo di dettami insomma anche questa situazione molto curiosa ed essendo la Liga un campionato che vivo quotidianamente non vedo l'ora di poter valutare la portata di questa accoppiata e di poter vedere il Papu Gomez con il proprio football sui campi di Spagna bene ho voluto fare questo tipo di discorso con voi parlare del Chelsea di Inghilterra di Lampard del Siviglia di Spagna del Papu Gomez sempre intrecciando con il calcio italiano ve l'ho detto sarà una settimana in cui ho intenzione di spaziare ci rivediamo sicuramente domani mattina per parlare del derby di stasera che merita un commento a parte e lo farò presto domani mattina domani vorrei anche aprire una finestra sul Sud America perché è un momento in cui voglio parlare delle due finali delle grandi competizioni sudamericane del 2020 quella di Coppa Sudamericana la vinta a Defensa e Justizia di Hernan Crespo Crespo merita di essere raccontato nei suoi panni di allenatore e merita di essere raccontata alla sua squadra che ha stravinto la finale con l'Anus ma sabato c'è la finale delle finali la finale della Coppa Libertador e Santos Palmeiras vi presento queste due squadre le loro particolarità e i loro talenti ovviamente in mezzo c'è la Coppa Italia ovviamente vi voglio parlare anche di quello che sta succedendo in Spagna a livello di Real Madrid con Zidane Kerischia di Barcellona che ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva in campionato ma continua a non convincere fino in fondo di quest'Atletico Madrid inarrestabile con un Suarez magnificente e con un Joao Félix che ha segnato un gol molto bello contro il Valencia io continuo a pensare che Joao Félix sarà un grande protagonista del calcio non solo del futuro ma anche del presente tanti argomenti sempre nel canale del calcio e quindi ci rivediamo prestissimo qui sul nostro canale grazie a tutti